Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti Sì perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi La speranza di vita è cresciuta a tal punto Se non è un problema la sopravvivenza allora bisognerà trovare un modo Per eludere questa nostra resistenza alla morte qualcuno sceglierà le epidemie Qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete Il tuffo dal balcone, quasi tutti gli acciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti Gli animali di tutte le altre specie saranno estinti